Grazie Presidente e Ministro. Abbiamo ancora tutti negli occhi le vergognose immagini dell'inchiesta dei fanpage sui giovani di gioventù nazionale. Quei gesti e quei cuori, ricordiamolo, fascisti, xenofobi e omofobi che, mi dispiace darvi una brutta notizia, in Italia sono giustamente e fortunatamente reato. Si chiama apologia del fascismo perché, ricordiamolo e ripetiamolo tutti ancora una volta, il fascismo è sinonimo di violenza, dittatura, squadrismo e razzismo. Ma in quelle impietose immagini di fanpage c'è anche un altro aspetto che ora vogliamo rimarcare, il forte sospetto di una possibile truffa ai danni dello Stato. Si vedono infatti i giovani della gioventù nazionale pronti ad utilizzare i soldi del Fondo Nazionale del Servizio Civile Universale per finanziare un sistema di raccolta del Circolo dei Fratelli d'Italia, Casa Italia. Allora le chiediamo, Ministro, pertanto al di là del degrado umano e morale, sottolineiamolo sempre, presente in gioventù nazionale, può escludere lei gli estremi di una truffa ai danni dello Stato derivante proprio da questo utilizzo, impiego illegittimo delle risorse del Fondo Nazionale del Servizio Civile Universale? Grazie. Grazie a lei, il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Bodi, a facoltà di rispondere. Ministro, ha le la parola. Grazie, Presidente. Io ringrazio comunque l'onorevole interrogante perché mi mette in condizione di dare informazioni che mi auguro facciano assoluta chiarezza sui fatti richiamati, peraltro riferibili a ipotesi future normativamente non configurabili. Ricordo e confermo che le associazioni legate ai partiti politici e ai movimenti politici non possono gestire i progetti di Servizio Civile Universale anche perché non possono iscriversi all'albo del Servizio Civile Universale. Nel merito ricordo che l'intero sistema del Servizio Civile è improntato alla massima trasparenza e oggettività, quindi è tutto verificabile e a richiesta si risponde come è doveroso puntualmente. L'accreditamento dei soggetti, sia pubblici che del privato sociale, quindi no profit, prevede la corrispondenza tra le loro finalità statutarie e quelle di legge, a loro volto ispirate ai valori costituzionali degli articoli 2, 4, 11 e 52. Pertanto ogni ente, al di là della sua ispirazione valoriale e politica, deve aderire oggettivamente a questi valori per poter operare nel sistema. Ad oggi sono circa 470 gli enti gestori accreditati e oltre 17.000 gli enti che possono accogliere i giovani volontari organizzati in quasi 68.000 sedi su tutto il territorio nazionale, tutti inseriti nell'albo del Servizio Civile Universale gestito dal Dipartimento per il Polizio dei Giovanili e il Servizio Civile Universale, previo controllo documentale puntuale e rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni che regolano l'accreditamento. E quindi ricordo ancora una volta che partiti politici e associazioni legate ai movimenti politici non possono iscriversi all'albo. Per quanto riguarda i programmi e i progetti del Servizio Civile, sono sottoposti a una valutazione di tipo qualitativo sulla base di criteri oggettivi e pubblici da parte di una Commissione terza rispetto all'autorità politica delegata. Il procedimento di valutazione dei programmi, che possono essere presentati solo dagli enti iscritti al sopraccitato albo, si configura quindi come una procedura concorsuale e concorrenziale, precisando che nessun ente ha certezza in ordine alla realizzazione dei programmi presentati, essendo il finanziamento delle posizioni di operatore volontario afferente agli stessi ascrivibile alla natura di tale procedura. Solo dopo questa valutazione, in base alle risorse disponibili, i progetti sono ammessi al bando per il reclutamento dei giovani operatori volontari. La selezione dei giovani operatori volontari inoltre avviene secondo le modalità del bando pubblico e con tutte le garanzie di trasparenza e imparzialità previste dalla legge, che esclude anche conflitti di interesse tra soggetti valutatori e candidati. Si prevede inoltre che i volontari abbiano un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia in maniera commisurata tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e 765 ore per i progetti di 8 mesi verificati dagli enti di riferimento tramite specifiche procedure dedicate. Questa procedura è complessa e terza e implica l'impossibilità di qualsiasi ingerenza politica. Mi auguro che questo sia sufficiente per rispondere all'interrogazione e soprattutto a scongiurare il rischio che qualsivoglia organizzazione politica possa interferire con il servizio civile che ha una natura chiara e terza e non certamente politicizzata. La ringrazio Ministro Abodi ha facoltà di replicare la deputata Baldino. A lei la parola. No, signor Ministro, non è sufficiente anche perché c'era una cosa che sarebbe stata necessaria. Sarebbe stata necessaria una sua parola di condanna nei confronti di quello che tutti quanti abbiamo visto. Sarebbe stata l'occasione da parte sua per condannare quell'afflato fascista, xenofobo e razzista che abbiamo visto nel circolo del partito che esprime la sua, Presidente del Consiglio. Sarebbe stata necessaria una parola di condanna nei confronti di chi voleva utilizzare i fondi del Servizio Civile Universale per finanziare un circolo di un partito politico. Stiamo parlando di quello strumento dedicato ai giovani per dedicare la propria vita a progetti di cittadinanza attiva e a difendere pacificamente i valori della nostra Costituzione. Valori che sono in antitesi col fascismo cui quella sezione si ispirava. E non sono soddisfatta di questa algida, mi lasci dire Ministro, risposta del Governo che ci dice che in fondo è tutto a posto. Siamo di fronte a forse un tentativo di truffa. Ma del resto cosa dobbiamo aspettarci da un Governo che gli indagati per truffa ce l'ha all'interno come la Ministra Santanchè. Ma mi lasci anche dire, visto che rientra tra le sue competenze, signor Ministro, che dopo tutto questo clamore mediatico suscitato dall'inchiesta di fanpage avete fatto uscire dalla porta la dirigente della sezione giovanile dal Consiglio Nazionale dei Giovani e in questa settimana volete far entrare dalla finestra Federica Celestini Campanari, una persona molto vicina a quegli ambienti che quando era dirigente del CNG sponsorizzava gli eventi di gioventù nazionale proponendoci questa settimana la sua nomina a capo dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, nomina già contestata perché non aveva i titoli questa persona per ricoprire quel ruolo. Allora che cosa avete fatto? Ci tenevate così tanto da cambiare la legge per poterla nominare e oggi ci proponete la sua nomina alla faccia dell'amichettismo che tanto dite di contrastare. Ma io mi chiedo dov'è il vostro limite alla decenza? Forse non c'è. Perché la verità, Presidente, concludo è che il pesce puzza sempre dalla testa. Ora è facile addossare la responsabilità di quanto succede a dei ragazzi nostalgici che non hanno ancora imparato a nascondere quell'orgoglio fascista come invece sanno fare i deputati adulti. La verità è che questi ragazzi hanno avuto dei cattivi maestri e che hanno come modello chi considera normale dialettica parlamentare, picchiare in Parlamento un collega dell'opposizione oppure un modello la seconda carica dello Stato che non fa mistero delle proprie ideologie fasciste. Allora se la Presidente del Consiglio con le lettere a se stessa cerca dei colpevoli, Presidente, deponga la carta e il calamaio e si guardi allo specchio. Grazie.